Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Elena dalla farmacia Longo. Oggi parliamo d'ansia. L'ansia è una delle patologie più diffuse e invalidanti che colpisce mediamente il 10% della popolazione. Si manifesta in modi diversi a seconda dello stato d'animo, delle condizioni fisiche e dell'attività svolta in un preciso momento. Può essere associata a preoccupazioni anche banali, come per esempio un esame scolastico o a situazioni dure da affrontare. Può essere legata anche a situazioni di agitazione e in generale ad uno stress psicofisico. Ma come possiamo descrivere l'ansia? È descritta come una sensazione di tensione psicofisica, di preoccupazione e di inquietudine che talvolta sconfina nella vera e propria paura. Non è sempre un sintomo di malattia. A questo proposito è importante stabilire i confini tra ansia normale e ansia patologica. Descriviamo dunque i disturbi generali dell'ansia. Senso di paura e pericolo imminente, paura di perdere il controllo, la paura di impazzire, l'incapacità di rilassarsi, apprensione, inquietudine. Ma vediamo ora i disturbi psicologici dell'ansia. Preoccupazioni eccessive per questioni secondarie, irritabilità, impazienza, difficoltà a concentrarsi e scarsa attenzione, disturbi della memoria, disturbi del sonno fino ad arrivare a sintomi più gravi come la depersonalizzazione e la derealizzazione. L'ansia patologica chiaramente richiede l'intervento di uno specialista che saprà diagnosticare quale tipo di disturbo ansioso affligge il paziente e quale trattamento è meglio utilizzare al singolo caso. In linea generale l'ansia può essere trattata con la psicoterapia, con la terapia farmacologica o meglio con una combinazione delle due. Ma ogni singolo caso va analizzato per approcciare la migliore terapia possibile. Esistono dei rimedi naturali per l'ansia? Sì, esistono degli integratori, prodotti da banco che potete trovare in farmacia che non necessitano della prescrizione del medico curante o dello specialista. I migratori per l'ansia sono moltissimi, sono prevalentemente di tipo erboristico e quindi a base di piante medicinali o loro estratti. Si va da tisane in foglie fresche o secche a estratti secchi in capsule, compresse, gocce, tinture madri. Per maggiori chiarimenti e per ulteriori informazioni potete leggere l'articolo oppure potete venire a trovarci in farmacia a Roma. Grazie!